Torna il 6 giugno aspettando il primo maggio, dopo appunto il rinvio del 30 aprile, un nuovo programma? Sì, allora c'è un cambio sul cast artistico, non ci saranno Levante e Clementino, ma ci saranno Marina Rei, che tutti quanti conosciamo ed è stata nostra ospite anche in passato, e ci sarà Coez, che è un rapper abbastanza in voga al momento. Il biglietto rimane sempre a 10 euro, abbiamo attivato una nuova convenzione sia con il clerk di Teramon, centro commerciale Gran Sasso, sia all'Aquilone e all'Aquila, e lo sconto è di 1 euro, quindi in questi punti il biglietto non è di 10 euro, ma è di 9 euro. E rimangono Eugenio Finardi, le luci della centrale elettrica e chi altro? Allora, il cast, vi dico anche gli orari, inizierà alle 18, ci sarà l'apertura dei cancelli, dalle 19 alle 20 ci saranno le due band emergenti che sono Miriam Ricordi che ha vinto il contest di Radio Delta 1 e Eugenio in via di gioia del premio Bruscaglione, suonerà Marina Rei dalle 20 alle 21, poi ci sarà Eugenio Finardi, Coez, le luci della centrale elettrica e chiuderanno i Modena City Ramblers. Questa edizione è dedicata all'AIRC, quindi questa partecipazione? Esatto, parte del ricavato verrà devoluto all'AIRC l'Associazione sulla ricerca per il cancro e quest'anno notizia molto fresca, daremo un aiuto ai giocatori dell'Aquila Rugby che da dicembre non percepiscono stipendio e hanno comunque garantito con grande professionalità e grinta per tutto il campionato, questa sera giocheranno la finale per la promozione nella massima categoria e il 6 giugno saranno nostri ospiti sul palco per dare voce a questa battaglia. Ricordiamo l'appuntamento, l'orario e la location. Il 6 giugno all'area ex Villeroi di Teramo dalle 18 fino a notte inoltrata.